In municipio a Pesaro si è presentata la lista Noi Moderati con il suo schieramento di candidati marchigiani alle elezioni del prossimo 25 settembre. Candidati affiancati nell'occasione dall'Onorevole Maurizio Lupi, Presidente di Noi con l'Italia, che compone questa coalizione di centrodestra completata da Udc, Italia al centro di Toti e Coraggio Italia di Brugnaro. Anche nelle Marche, come in tutta Italia, la lista Noi Moderati nella coalizione di centrodestra vuole riportare la caratteristica fondamentale che da sempre è quella proposta politica del centrodestra. Serietà, competenza, concretezza, responsabilità. Per noi la politica è la moralità del fare, è assumersi la responsabilità di guidare una comunità, nelle Marche come in Italia. Ed è per questo che c'è la lista Noi Moderati all'interno della coalizione di centrodestra. Abbiamo messo insieme personalità che, quando hanno avuto una responsabilità, hanno dimostrato che questa affidabilità che gli elettori gli hanno dato può essere giustamente ricompensata. Il Presidente della Regione Liguria, Toti, il miglior Sindaco di Venezia, Brugnaro. L'esperienza che, anche come noi con l'Italia, abbiamo fatto da Ministro delle Infrastrutture e da Vice Presidente della Camera è anche un simbolo storico come l'Udc. Le Marche sono un'eccellenza, una risorsa importante per l'Italia. Ha bisogno però, come le altre regioni, in particolare questa, di essere valorizzate. Le infrastrutture sono una sfida purtroppo ancora non risolta. La portualità, le autostrade del male, il retroporto, il collegamento del porto di Ancona con le autostrade. Il turismo, che qui è uno degli elementi fondamentali. E far capire, per esempio, come non c'è solo il problema delle imprese energivore sul caro energia. Oggi, più che mai, per esempio, le strutture alberghiere rischiano di dover chiudere anticipatamente perché l'incidenza dei costi di energia è troppo alta. Insomma, tante sfide che vanno risolte con un'unica risposta. La credibilità e l'affidabilità delle persone che noi, con i nostri candidati, abbiamo voluto mettere in campo. La lista noi moderati è questa concretezza e credo che sia una bella opportunità per gli elettori del centrodestra che vogliono dare forza ai moderati. La pesarese Giulia Marchionni, consigliera comunale di centrodestra e presidente della commissione bilancio, è candidata nel plurinominale alla Camera come capolista per noi moderati. Al suo fianco, gli altri candidati, Paolo Piccinelli, Tablino Campanelli, Tiziana Riservati e il senatore uscente, nonché presidente dell'Udc, Antonio De Poli, che è il candidato del centrodestra per il collegio uninominale al Senato per Pesaro Urbino e Ancona. De Poli che si è espresso così sul tema energia. Il problema dell'energia è un problema che entra qui, nelle Marche come in tutta Italia. Oggi più che mai noi stiamo intervenendo e siamo intervenuti anche in maniera precisa e decisa anche a livello europeo per anticipare quella che era l'assemblea di tutti i ministri dell'energia economica europea. L'abbiamo anticipata domani, ed era prevista a ottobre. L'abbiamo fatto anticipare proprio per far sì che ci metta un tetto europeo chiaramente al prezzo del gas e dell'energia e altrettanto abbiamo chiesto al governo di intervenire urgentemente e immediatamente per dare un segnale preciso, perché in questo modo se no le nostre aziende purtroppo corrono il rischio di chiudere e di conseguenza le persone che lavorano con il rischio di stare a casa, di conseguenza e le nostre famiglie vanno chiaramente in netta difficoltà e questo non possiamo permettercelo. De Poli ha tra l'altro già presentato un'interrogazione parlamentare davanti alle paventate fideiussioni richieste da aziende energivore. Proprio in questi giorni più di qualche impresa, proprio qui delle Marche, proprio in questo territorio, ha segnalato che hanno chiesto delle fideiussioni bancarie annuali, tra l'altro, quindi addirittura qualcuno di milioni di euro per poter avere l'energia. Ho segnalato subito questo problema al Presidente Draghi e al Ministro della Transizione Ecologica, con un intervento immediato attraverso un'interrogazione proprio per far sì che questo non avvenga. Non è possibile che in un momento di crisi si aggiunga anche questo aspetto. È stato segnalato proprio da questo territorio, da delle aziende che gli hanno richiesto anche qualche milione di euro di fideiussioni bancarie, che come voi sapete è costosa, quindi aumenta costo a costo, già siamo in difficoltà e chiediamo questo. Come dicevo prima, non è possibile e proprio per questo motivo ho chiesto un'interrogazione urgente con un intervento immediato del Presidente Draghi. Io credo che oggi dobbiamo fare un piano strategico nazionale sull'energia. Potremmo partire dai rigassificatori, potremmo partire dal nucleare succuro, ma sicuramente dobbiamo trovare una soluzione per rimanere ed essere indipendenti. Credo che questa sia una delle considerazioni più importanti. E oltre all'energia aggiungo un altro problema, uno dei tanti purtroppo, che è quello della siccità. Anche qui abbiamo visto anche in questi giorni le associazioni di categoria che hanno detto c'è un problema dell'acqua e questo è un altro dei grandi problemi che dovremmo tenere conto nel prossimo futuro. Senza acqua non c'è vita, senza vita non c'è nessuno di noi.